ciao ragazzi bentornati oggi parleremo del modo della scala Lidia vi voglio proporre un nuovo tipo di esercizio senza suonare questa volta si parla di ascolto quindi vi do un consiglio una cosa che mi è mancata fino alla tarda età a cui poi finalmente ho aperto l'occhio soprattutto l'oretti sono andato ad ascoltarmi la musica classica perché nella musica classica per tante cose veramente soprattutto a me per quanto mi riguarda per melodie per capire capire proprio i grandi compositori quando analizzato Bach questo momento ma anche più recenti Chopin per dirne qual attimo ecco quando studio quel tipo di musica lì diciamo che ne ho tratto diversi tipi di vantaggi che secondo me sono studi molto completi e per noi musicisti diciamo moderni comunque tutto nel mio caso assumiamo strumenti moderni e abbiamo poca dimestichezza con la musica classica ecco andare a ascoltare certe opere è sempre un grande esercizio sia a livello appunto di orecchio che di studio di comprensione dell'armonia relazione alla melodia e viceversa quindi per quanto riguarda il modo lì in particolare di do delle dritte nel pdf di ascolto perché ad esempio in Bach lo stesso Beethoven nella quinta nell'ultimo movimento della quinta di Beethoven c'è un bel passaggio con la scala Lidia Lidia molto molto belli oppure Bartok eccetera eccetera ovviamente il modo Lidio non è assolutamente una diciamo un modo usato esclusivamente la musica classica anzi ci sono moltissimi musicisti che anche di recente attualmente la musica di adesso mi fanno largo utilizzo mi viene subito in mente Satriani perché è quello che mi ha fatto scoprire un po' questa questo tipo di questa scala ma ci sono melodie anche molto più diciamo più conosciute tra virgolette dai passatemi il termine come ad esempio come non come non fare riferimento alla sigla The Simpsons che è proprio l'esempio che fanno tutti ma oggi lo devo fare anch'io perché è bellissima mi sembra sia fa appunto c'è questa questo sì naturale nella melodia è meravigliosa ma anche per quanto riguarda musica pop musica appunto moderna vi farò degli esempi tipo ho trovato dei brani per jam insomma ve li metto lì andiamo a vedere le diteggiature per questa scala andiamo al La anche oggi così confronteremo poi la sonorità al Lidia con ad esempio quella maggiore che abbiamo visto qualche modulo fa e quindi La Lidio la scala La Lidia col primo dito la quarta diesis la prendo con un indice con il Mino con il Mino e con il Medio con il Dito queste sono le tre diteggiature che utilizzo di questa scala ma l'esercizio secondo me più più bello più divertente è quello di come vi avevo già detto di dividere in porzioni più o meno grandi la nostra tastiera la tastiera del basso e suonare e sforzarsi di suonare le scale in questo caso Lidia solo in quella determinata parte della tastiera io ho fatto esempio le primi quattro tastre dovrebbe essere i primi cinque primi sei pure dal sesto al decimo e questo ci costringe ad usare di più la MET e quindi a pensare più alle note agli intervalli ai gradi della scala e meno alle posizioni quindi facciamo un esempio se io volessi fare tutte le scale Lidia nei miei quattro tasti partendo da Mi e andando per semitoni mi verrebbe una cosa di questo genere risalgo col Fa Lidia risalgo col Fa Lidia scendo col Fa Lidia e così via fino ad arrivare al mio limite dove sono in un posto il quarto tasto e stessa cosa si può fare poi nella parte centrale nel range medio del nostro strumento e poi nel range alto gli altri esercizi li abbiamo già visti quindi fare ottimo ottimo esercizio fare la scala su una corda sola poi su due su tre su quattro La Lidia posso partire da Mi grave per la quinta e arrivare all'ottava sopra quindi faccio tutto sulla corda di Mi oppure appena trovo la prima occasione scendo sulla corda di La parto ancora a Mi appena arrivo sulla corda di La proseguo appunto in senso orizzontale mi fermo a Mi torno indietro stessa cosa stessa cosa si può fare andando ancora sotto sulla corda di Re e arrivare a La oppure addirittura al Sol questo in tutte le tonalità mi raccomando allora per gli esercizi tanto comunque più o meno ora adesso avete avete visto quali sono i principali poi come ripeto sempre sarò noioso ma insomma dovete anche inventarli da voi andiamo a sentire con la base cosa succede la base è è la Major 7 non ho messo apposta l'undicesima diesis nell'accordo perché almeno si sente la differenza con della scala Lidia la scala maggiore quindi la Lidia proviamo a fare delle tot battuse tot note della scala alternandola all'arpeggio di La Major 7 parto con la scala nella scala il peggio Scala Beggio Scala ora proviamo a suonare la maggiore la scala maggiore ionica di La e facciamo un po' di scala maggiore e un po' di Lidia parto con la maggiore adesso Lidia passo la Lidia e facciamo un po' di scala maggiore maggiore queste sono solo alcune idee che mi vengono così per farvi capire in modo molto semplice e molto diretto almeno ci provo e farvi capire come si può utilizzare una determinata scala la nostra improvvisazione anche se non è semplice su un tappeto fisso farsi venire le grandi idee senza una melodia di riferimento ma è un ottimo esercizio nel prossimo modulo parleremo in un altro modulo fondamentale e importante nella musica che è il Miso Lidia quindi vi aspetto ovviamente se avete domande scrivetemi se avete critiche fatemele e se vi state trovando bene fatemi sapere così il mio entusiasmo si amplifica ancora di più chiudiamo il prossimo modulo e buono studio il prossimo modulo